La maglia azzurra è un orgoglio, è un qualcosa che ho sognato da quando ero bambina. È una responsabilità, ma è anche un piacere. Abbiamo perso una partita che abbiamo per larghi tratti dominato. Nello scegliere le persone sentivo che le anime di questa persona corrispondevano poi all'identità che avevo in testa. Vuol dire sacrificio, passione, energia. È tutta la mia vita. Tutti vi aiutano tutti e questa è secondo me la forza di questo gruppo. È una sintonia perfetta. Voglio allenarsi, voglio dimostrare, ci vogliamo molto bene. La maglia come modo di stare in questo gruppo. La squadra viene prima del singolo. Noi non pensiamo troppo al fatto che l'abbiamo vinto anni fa, ma a quello che vogliamo adesso. E adesso bisogna guardare al futuro.